sono sdraiata pancia in giù nel letto e piccola permessa però perché sto per editare il video visto che l'edito col telefono l'edito sul telefono allora raga io ho fatto questo video perché mi è stato richiesto tantissimo ho voluto provare ma non so se ne rifarò perché tanto per cominciare sono ero scomodissima ero veramente scomoda perché io sto con il foglio qua di solito per colorare quindi era un po scomoda infatti all'inizio ho anche fatto gli errori delle sbavature che non sono riuscita a coprire e poi non sapevo mai come mettere la fotocamera ho cambiato ho cambiato tante inquadrature ma non era mai un granché il posto più comodo sarebbe stato essendo che le immagini sono tutte nella facciata destra del libro sono appunto destra dovevo metterla lì la fotocamera sarebbe stato più comodo ma io sono destra quindi coprivo la visuale se l'avessi messa nel posto più logico e quindi anche lì e poi raga non lo so secondo me è noioso perché un conto sono i video su tic tac che guardo io che sono veloci questo ve l'ho fatto lungo apposta perché vi piace quindi ho fatto pochi tagli eccetera pochi tagli no quindi non lo so secondo me è un po' noioso anche perché sento che ci ho messo comunque un paio d'ore a farlo io ho tolto l'audio perché ho messo una serie tv come sottofondo quindi ho anche tolto l'audio e ho messo una musica non lo so secondo me non sarà un granché ciao miso che cavolo fai niente vi lascio a questa prova vediamo se vi può piacere a 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